Il suo Dario non ha tasche, amore al denaro, potere, corruzione, divisione, crimini contro la vita umana e contro il creato. Non siate mai uomini e donne tristi, un cristiano non può mai essere, non lasciatevi prendere mai il nostro coraggio. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma che nasce dal aver incontrato una persona, Gesù. Były też słowa po polsku, biskup Rzymu apelował do młodych ludzi, by dobro przygotowywali się do Światowego Dnia Młodzieży w lipcu, nebrio de Rzanejo. Grazie.